Ciao a tutti, vi siete iscritti al challenge di Sanremo, la prima edizione che si trarrà il 25 di questo mese, per cui il 25 settembre? Ci sono tre buoni motivi per farlo. Motivo numero uno, nuoteremo, pedaleremo e correremo in una location spettacolare, irrinunciabile. Motivo numero due, raggiungeremo Sanremo in bicicletta. E sì, perché con Race Across Limits partiremo il 22 settembre, per cui giovedì mattina da Besanabrianza, per giungere a Sanremo dopo due giorni, lo dividiamo in due. Faremo il tragitto della Milano-Sanremo, per cui percorreremo, diciamo, il tragitto più famoso. Il 23 saremo appunto a Sanremo, il 24 ci godiamo il paesaggio, il mare e il 25 gareggiamo al challenge. Terzo motivo, ultimo, ma sicuramente più importante. Faremo tutto per sostenere una raccolta fondi a favore del reparto pediatrico dell'ospedale d'Imperia, per cui che ha bisogno dell'aiuto di tutti noi per acquistare saturimetri e macchinari cardiologici. Per cui non si può mancare. Io vi aspetto, io pedalo e gareggio. Voi dovete pedalare con me, gareggiare e sostenere la raccolta fondi. Nel link di seguito vi daremo tutti gli estremi. Dai, vi aspetto a Sanremo. Ciao!